Bisogna fare i complimenti all'amministrazione di Montalto che ha subito e più volte segnalato questo problema per la comunità, ma non solo, perché questo ponte ha una valenza più ampia, serve per i collegamenti con diverse località, serve per il turismo, serve ovviamente per gli abitanti, ma anche per i tanti turisti che vengono qui nella splendida Valle Argentina. Quindi il comune ha fatto un progetto, un ottimo progetto, ha chiesto un sostegno alla regione Liguria e noi siamo intervenuti perché riteniamo che bisogna aiutare i comuni quando hanno bisogno del nostro sostegno e soprattutto bisogna aiutare con un occhio di riguardo i comuni dell'entroterra perché spesso essendo piccoli comuni rischiano di non avere le attenzioni dovute. Quindi noi siamo intervenuti e sono orgoglioso a nome di Regione Liguria di poter oggi inaugurare questo ponte che ha un significato importante perché c'è dietro la realizzazione di questo ponte il cuore, la passione dell'amministrazione comunale di Montalto e anche la sinergia che ci deve essere tra enti per fare il bene del territorio. Signor Sindaco, un giorno importante per Montalto, anche se adesso dobbiamo dire Montalto Carpazio, per la rimessa in sesto di questo ponte che serve quante abitanti di Montalto? Allora ci sono circa 20-25 residenti che stanno a Monte lì, oltretutto ci sono anche delle attività produttive, ci sono dei pastori e comunque indipendentemente dai residenti che ci sono, ci sono tutte le campagne più produttive ancora e coltivate con tutti i boschi da preservare che gravitano su questo versante, perché questo ponte serve tutto al versante del faudo. Fino a poco tempo fa dovevano utilizzare un vecchio ponte non particolarmente sicuro? No, il ponte era sicuro, il problema è che è un vecchio ponte romanico, quindi le dimensioni erano quelle dei carri di allora e quindi si poteva transitare massimo con un pandino, quindi tutti i mezzi di soccorso, tutte le altre vetture non potevano transitare. Adesso con questo ponte che abbiamo completamente ristrutturato potranno transitare anche mezzi di soccorso, potranno insomma avere tutti i residenti una sicurezza in più. Con fondi regionali? Una parte di fondi sono stati regionali perché l'intervento è costato 340 mila euro, la regione ci ha dato gli ultimi 120 mila euro che sono stati quelli che ci hanno aiutato a chiudere tutti i lavori perché tutto il resto è venuto da fondi del comune e capite bene che comunque era uno sforzo molto grande per la nostra amministrazione. Grazie 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 Grazie